cristo ferattis sabato è arrivato un pareggio per 0 a 0 contro la roma è un risultato che ti soddisfa sì perché a roma è stata una partita difficile siamo riusciti a pareggiare con una squadra molto forte uno dei migliori squadra del campionato nel secondo tempo sei uscito per un leggero infortunio come ti senti adesso è adesso meglio perché sono uscito per crampi e adesso sto sto recuperando piano piano sei cresciuto in francia ma si è legato anche alla nazione di haiti che legami hai con questi due paesi già i miei genitori sono cresciuti ad haiti io sono nato a parigi però ho sempre cresciuto a parigi e ho tanti amici in francia l'anno scorso all'inter hai potuto vedere da vicino molti degli attuali campioni d'italia c'è qualche giocatore che ti ha impressionato particolarmente sì uno lautaro martinez era un attaccante fortissimo che faceva tanti gol e parlava anche con me era era un bravo ragazzo è la tua prima stagione a ferrara come ti stai trovando in città ferrara è una città piccola molto diversa a milano e mi piace anche il cibo di ferrara e mi trovo molto bene qui chi sono i compagni con cui hai legato di più e perché c'è demba musta edu perché ascoltiamo le stesse musiche scherziamo insieme e sono bravi ragazzi la scorsa settimana sei stato aggregato alla prima squadra quali emozioni hai provato ho trovato grandi emozioni perché per me è un sogno e ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo in questa occasione hai scelto la maglia numero 16 c'è un motivo particolare no non c'è grande motivo solo che lo staff ha deciso di darmi questo numero e in avanti può essere che sarà un numero speciale per me sabato vi attende la partita contro il milan per te un piccolo derby visto il tuo passato all'inter come vi state preparando a questa sfida e ci stiamo preparando al massimo ti stiamo allenando al cento e siamo anche concentrati per la gara di sabato contro il milan all'andata contro i rossoneri arrivò la prima sconfitta per la spal primavera immagino che tu e i tuoi compagni vogliate riscattare quel risultato e ovviamente perché non eravamo contenti del risultato dell'andata e quindi vogliamo fare una grande partita sabato